Una donna è morta in seguito a un incendio scoppiato su una barca ormeggiata nel porticciolo turistico Marina di Stabia a Castellammare. La donna, trentenne, nata a Roma, lavorava come hostess sulla barca ed era appena rientrata da un'escursione. Stanca, aveva detto agli amici di volersi trattenere a bordo per la notte prima di fare rientro a casa. È morta nelle fiamme che hanno avvolto l'imbarcazione, forse per asfissia. Il suo corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco. Secondo quanto accertato dalla Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia, guidata dal comandante Achille Selleri, la giovane donna, che ha perso la vita in conseguenza dell'incendio, potrebbe non essersi accorta di nulla. Dormiva sotto coperta e sul suo corpo non sono state trovate ferite né ustioni. L'incendio si è sviluppato solo all'esterno dell'imbarcazione, che poi è affondata. La giovane donna, nata in provincia di Roma, faceva parte dell'equipaggio dell'imbarcazione, una barca a vela di 22 metri, inglese, ma gestita da una società di Gragnano. Gli inquirenti stanno visionando le immagini delle numerose telecamere di cui è dotato il porticciolo, che è ampiamente sorvegliato e chiuso ad estrani per verificare se qualcuno si sia avvicinato durante la notte all'imbarcazione. Al momento non è ancora escluso che possa trattarsi di un incendio doloso, anche se dai filmati della videosorveglianza interna non sembra avvicinarsi nessuno alla barca, mentre le fiamme si sprigionano intorno alle 4 della notte direttamente dall'interno. La Salma resta a disposizione della Procura di Torre annunziata in attesa dell'autopsia che sarà fissata nelle prossime ore. L'inchiesta, aperta dalla Procura, mira innanzitutto ad escludere le piste più inquietanti, che saranno scartate solo grazie all'esame autoptico.